Lumos. È stato rilasciato pochi minuti fa il trailer di Soul, il prossimo film Pixar di cui non ho letto assolutamente nulla, non so niente sull'argomento e direi di andarci a vedere subito questo film, sono molto molto curioso. Vai! Per che cosa vorresti essere ricordato al mondo? Uh, New York. Disponiamo di un tempo limitato sulla Terra. Vuoi diventare la persona che eri destinato ad esservi? Non perdere tempo a vivere una vita inutile. Ma che sto... È molto strano per essere un film Pixar. Sfrutta ogni prezioso istante della tua vita e libera la tua vera essenza. Quella appassionale e travolgente. Che può lasciare un segno memorabile in questo mondo. 2020, l'anno prossimo. Mi serve un taglio di capelli per oggi. Ce la fai? Oh, oh! Scusi! Oh! È morto! Ma che cosa? Che carino! C'è nessuno? Bellissimo Coco. Allora, per che cosa vorresti essere ricordata? Pensavo al simpatico ballo dei cowboy? Come no? Wow, sono rimasto molto molto spiazzato. Questo sarà un capolavoro. Wow. Sono rimasto un attimo spiazzato. Non lo aspettavo così. Soul ovviamente significa anima, quindi penso che quei due che abbiamo visto, il personaggio principale... Scusate, non so i nomi, quindi non lo so. E la ragazzina, penso fosse una ragazzina, sono due anime. Non ho ben capito qual è il... Cioè, il senso del film più o meno già l'abbiamo capito. Non so come si evolverà, perché non so che cosa poi devono fare queste due anime. Non lo so, non ho letto niente sull'argomento, quindi non ne ho idea. Se siete più informati di me, fatemelo sapere qui sotto. E si prospetta un gran bel film. Pixar tira fuori sempre queste perle. Sono rimasto spiazzato, ve lo giuro. Sono rimasto spiazzatissimo, perché non me l'aspettavo così. Wow. Non vedo l'ora. Speriamo di vedere altre clip, altri trailer. E brava Pixar, secondo me questo spacca, questo spacca. Pollicione in su, commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E ci vediamo al prossimo video. Docks!